Siracusa Joseph rappresenta l'Italia e la Spagna, riparte la mobilità europea. L'esperienza entusiasmante dei 5 volontari di Joseph Siracusa che hanno vissuto l'esperienza del loro primo Erasmus Plus a Ronda, provincia di Malaga in Spagna. L'exchange è stata una completa esperienza formativa di 10 giorni, basata sui temi della disabilità, dei flussi migratori e della progettazione sociale che ha permesso l'incontro con realtà di altre nazioni partecipanti all'iniziativa, Spagna, Romania, Svezia e Grecia e con le realtà associative virtuose della provincia spagnola. I 5 volontari hanno fatto rientro lo scorso 16 luglio. Come membro del direttivo dell'associazione Joseph Siracusa, commenta Nicolo Monterosso, consigliere direttivo dell'associazione mi sento onorato di aver partecipato a questa esperienza unica nel suo genere, contornata dal paesaggio meraviglioso della città spagnola di Ronda che ha fatto da cornice alle varie attività, teller e conferenze basate sull'educazione non formale e incentrate sulle varie tematiche di inclusività e integrazione. No hate, speech, diritti e uguaglianza. Posso affermare con sicurezza che la prima volta non si scorda mai. Le esperienze di mobilità sono centrali per i nostri percorsi formativi nella cornice Erasmus che in un momento così complesso tra emergenza e ripresa sono una grande opportunità di scambio, di apprendimento per le buone pratiche e concreta costruzione di cooperazione che ci permette l'implementazione delle progettazioni sul territorio. Il tema centrale per noi di Joseph è quello di sostenere la figura degli outworker che per una maggiore e costante comprensione dei bisogni contemporanei per interventi efficaci sulla tematica di interesse per le politiche giovanili. Conclude Giulia Giambusto, Presidente dell'Associazione.